C'è un'oasi di fresco e relax in Alta Valtrebbia, a riparo dal caldo torrido di questo agosto, uno spazio di relax a contatto con la natura. Sono le Cascate del Perino. Per conoscerle è possibile affidarsi al portale turistico scopripiacenza.it, creato da Editoriale Libertà per sostenere luoghi, itinerari e bellezze del territorio. Le Cascate del Perino sono uno degli spettacoli meno conosciuti ma più suggestivi del Piacentino. Si tratta di trekking vero e proprio, perché il sentiero non è dei più facili ma il risultato è garantito. In uno splendido colpo d'occhio con numerosi salti d'acqua distanti tra loro solo alcune centinaia di metri, queste cascate nel tempo hanno creato alcuni piccoli laghetti, tutti da ammirare e fotografare, così come le rapide. Impagabile il suono dell'acqua che scorre e batte contro la pietra.